Il lavoro è un personaggio di Suzzara, produciamo il furgone, il daily, siamo circa 2.100 persone, produciamo circa quasi 280 veicoli al giorno. Operiamo su vari mercati, Europa, America e Asia. Siamo venuti a conoscenza della ditta MC tramite un sondaggio su internet, praticamente loro hanno proposto una macchina dove fa una radiografia alla fune, praticamente guarda all'interno della fune se ci sono delle rotture. Quello che noi infatti non riuscivamo a capire perché utilizzavamo ancora il metodo con lo straccio, quindi si vedeva più la parte esterna ma non quella interna. Dopo una rottura improvvisa di questa macchina qua, abbiamo deciso anche di installare lo strumento proposto da MC, che sono circa 4 anni che ce l'abbiamo e con loro abbiamo anche sviluppato una serie di grafici dove ci indica l'andamento della vita della fune e delle varie sostituzioni. Questo strumento è consigliabile a tutte le aziende dove ci sono dei carichi sospesi con delle funi. Anche noi adesso stiamo facendo una verifica per estenderlo su altre parti dell'impianto dove ci sono dei carichi sospesi, quindi per la sicurezza secondo me è un vantaggio da parte nostra prevenire qualsiasi tipo di rottura.